L'accordo di collaborazione firmato questa mattina corrisponde ad un'esigenza unanimamente avvertita dai responsabili degli uffici che hanno sottoscritto l'iniziativa finalizzata al contrasto delle più gravi forme di evasione fiscale che, travalicando obblighi e doveri già imposti per legge, consentirà di adivenire a forme più concrete ed efficaci di coordinamento operativo. Nasce dalla constatazione che solo mettendo insieme tutto questo patrimonio di informazione è possibile scovare i grandi evasori. che sono accertamenti complessi, per cui ogni pezzo di informazione è fondamentale. Solo incrociando queste informazioni noi possiamo scoprire l'accertamento che riguarda grandi evasori, grandi reati in materia finanziaria, societaria commessi. Tecnicamente come funzionerà? Tecnicamente creiamo innanzitutto una rete di referenti che sono tra di loro collegati in modo informatico. A supporto di questa rete di referenti creiamo una comunicazione delle notizie di reato e dei nostri accertamenti molto più strutturata. Quindi divideremo le informazioni in modo da rendere tra di loro più intellegibili, in modo da poter scoprire quelle più preziose da recuperare sia per le finalità di carattere penale, sia per le finalità di carattere amministrativo per il recupero del quantum dovuto. Un accordo che non ha precedenti in questa sede? Diciamo che in Regione questo è il primo accordo così composito, così unito, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. L'Agenzia delle Entrate è quotidianamente, così come la Guardia di Finanza, impegnata sul versante della lotta all'evasione, sul versante della lotta all'illecito. e dal punto di vista operativo molto spesso i nostri funzionari a volte si trovano proprio in difficoltà quando c'è da creare queste forme di contatto e di collaborazione, perché ovviamente nel momento in cui si ravvisa l'ipotesi del reato deve intervenire, interviene la Procura della Repubblica. L'accordo è inoltre orientato a rendere più immediata e concreta l'applicazione di recenti novità legislative, recanti importanti disposizioni di particolare efficacia nel contrasto all'evasione fiscale. L'immediatezza, diciamo che questo è forse uno dei tanti obiettivi principali di questo accordo di collaborazione, che trova spazio proprio grazie a questo rinnovato rapporto di collaborazione tra i vari uffici. Un rapporto di collaborazione che sicuramente eviterà, anzi tenderà a superare le criticità che abbiamo osservato durante anni di esperienza e soprattutto cercherà anche di evitare delle attività che sono talvolta duplicati di attività svolte da altri uffici. Quindi in questa perfetta sinergia troviamo lo spazio necessario e sufficiente per poter intervenire con quella immediatezza che il territorio si aspetta.